Un assalto in piena regola, come nei film, un commando di 11 uomini ha svaliggiato nella notte tra giovedì e venerdì la ditta C&T Pelletterie Bergamasco di Pernumia, un'azienda molto nota che produce borse per marchi di lusso. I malviventi, tutti vestiti con tute bianche, sono entrati in azione le 3.40 di notte, hanno usato sei mezzi rubati in una concessionaria del posto e il furgone rubato al panettiere del paese. Con due auto hanno sbarrato la via d'ingresso del comune, altre due auto invece, quella in uscita, altri tre mezzi sono stati utilizzati per il colpo. Con una Giulietta nera hanno sfondato il cancello d'entrata e poi il portone del magazzino, un boato. La razzia in tre minuti appena, il 73enne, titolare dell'azienda, sentendo l'allarme, è uscito e per poco non veniva investito dall'auto in fuga dei ladri, auto che hanno abbandonato poco lontano. Un bottino di svariate centinaia di migliaia di euro che ora la famiglia Bergamasco sta cercando di stimare. Prima di compiere il furto, i ladri hanno anche tagliato le gomme di tutte le auto parcheggiate all'interno dell'azienda per evitare che qualcuno potesse seguirli. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Abano Terme per i rilievi, sono già state acquisite le immagini di videosorveglianza dell'azienda e quelle del paese. Dalla rapidità e dal modo chirurgico in cui hanno agito, sembra essere una banda di professionisti specializzati in furti su commissione. La desolazione e la preoccupazione della famiglia Bergamasco, che già in passato nel 2018 era stata vittima di un'altra razzia, quella volta all'interno dello showroom in cui espongono le borse di loro produzione.